Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 Ultimate Team. Potrebbe essere tranquillamente un episodio dei migliori attaccanti di FIFA, perché? Perché oggi parliamo di Ageron e la sua versione Team of the Season 94, il valore sulla carta per l'attaccante del Manchester City e della Nazionale Argentina, i valori sono fenomenali, probabilmente il miglior attaccante di FIFA 15, in ogni caso vediamo come si comporta in campo cominciando come sempre dalla velocità, velocità che è qualcosa di eccezionale, davvero fuori dal comune, straordinaria, 99 di accelerazione, vuol dire che salta chiunque nel primo passo, non lo tiene nessuno, è impossibile tenerlo, e a 90 di sprint speed, quindi comunque anche nel lungo riesce a non farsi recuperare facilmente dalla difesa, a 79 di forza fisica, quindi non va a terra sugli scontri fisici, è aiutato anche da un buon equilibrio con 99, quindi il valore massimo. Per quanto riguarda il tiro, beh, iniziamo da un dato, 99 di finalizzazione, quindi ogni tiro ha un gol, e questo è vero, ci sono altri attaccanti che magari hanno valori così alti, ma magari hanno problemi a finalizzare, con Aguero no, sempre segnato davanti al portiere, mai avuto particolari problemi, ha una potenza di tiro ottima, straordinaria, 95, che è un valore veramente, veramente alto, il longshot un pelino più basso, 87, ma con Aguero io non ho avuto problemi, perché segnavo sempre dall'interno dell'area di rigore, non ho mai neanche avuto bisogno di fare longshot. Vi segnalo le 4 stelle più di debole, quindi potete tirare sia di destro che di sinistro, importantissimo, come sempre in tutti gli attaccanti. 91 l'effetto, quindi potete tirare sia di potenza, che abbiamo visto essere 95, sia di precisione, quindi magari metterla a giro sul secondo palo, dove il portiere non può arrivarci. Buone anche le punizioni, non lasciatevi ingannare dall'80 di punizione, sapete che su questo FIFA è leggermente più facile segnarle rispetto al solito, quindi è in grado, Sergio Aguero, di mettere anche le punizioni. Cosa volete di più della vita? Volete magari un dribbling eccezionale sui livelli di Messi? E qui non stiamo su quei livelli, perché Sanchez e Hazard del Team of the Season da BPL sono leggermente meglio, ma anche qui non possiamo lamentarci a 98 di dribbling in game, 94 di agilità, quindi un ottimo valore, 97 di controllo palla, quindi sui lanci lunghi riesce a metterla giù abbastanza tranquillamente, senza particolari problemi, 4 sale skill, quindi nello stretto potete decidere se andare col dribbling di agilità, quindi magari cambiando direzione, o con le skill, quindi Aguero sa fare anche questo. Volendo, se proprio volete passare la palla, perché magari vi triplicano, potete passare anche tranquillamente il pallone dai tuoi compagni più smarcati, meglio però con i passaggi corti. I passaggi lunghi mi hanno lasciato un po' a desiderare, perché ha 93 di passaggio corto e 70 di passaggio lungo. Ovvio, Aguero deve finalizzare il gioco, quindi non è che dobbiamo pensare di fare lanci di 90 metri tutta la partita, però volevo segnalarvi questo piccolo piccolo difetto. Chiudiamo con il fisico e il colpo di testa. Abbiamo già detto della forza fisica, vi voglio segnalare l'88 di elevazione. Voi direte, cosa serve l'elevazione in un giocatore che è alto 1,72? Serve perché, nonostante sia così basso, e l'elevazione non sia 99, ho provato a vedere, ci sono giocatori che saltano di più, sono riuscito a segnare anche di testa con Aguero, e anche a difensori abbastanza alti, quindi come ultima risorsa, proprio ovviamente, non puntate a fare cross e basta per Aguero, perché ha altre qualità, però è in grado anche di finalizzare l'azione con un bel colpo di testa. Chiudiamo, ultimissima nota, con il posizionamento 98, vuol dire che è sempre al posto giusto, al momento giusto. Chemistry style di utilizzare con questo giocatore? Vi direi, tranquillamente, il chemistry style di base. Praticamente è perfetto Aguero, è il migliore attaccante, oltre ai vari Ronaldo, record breaker, eccetera, eccetera, però ha questa cifra, perché poi ci arriviamo, è probabilmente il migliore attaccante del gioco. Dove utilizzarlo? Alto basso di workers, quindi perfetto per fare l'attaccante, l'ho utilizzato sia in un'attacca 2 che in un'attacca 1, l'ho preferito in un'attacca 2, anche se in un attacco a una punta è devastante, dovete solo modificare leggermente il vostro modo di giocare. È argentino, quindi potete tranquillamente legarlo con una Serie A, con Tevez o Palacio, e magari un Pereira centrocampo, potete mettere Dybala a Team of the Seasons, se lo avete nel club. Comunque ci sono tanti argentini in Serie A, i Cardi, se siete fan del giocatore dell'Inter, che dovrebbe uscire second in forma settimana che arriva. Oppure in un 4-4-2, questo è il classico 4-4-2, molto solido, molto compatto della BPL, abbiamo un attacco che si completa bene come Aguero, Diego Costa, quindi uno forte fisicamente, più grosso, ottimo anche nei colpi di testa, e uno più veloce, due ottimi finalizzatori in ogni caso. Abbiamo la classica difesa, è un centrocampo con Quadrato Ramirez, Fernandini e Schurle, che dà una mano in avanti, dà una mano indietro, sa concretizzare, perché Quadrato e Schurle sanno concretizzare e va a inserirsi molto. In generale, Aguero mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Accelerazione al top, velocità massima ottima, finalizzatore incredibile, ogni tiro è un gol, è sempre al posto giusto, al momento giusto, grazie all'alto basso di WorkRates e grazie al posizionamento eccellente. Buona potenza di tiro, il dribbling straordinario, perché? Perché non è ai livelli di Messi, che quelli sarebbero nell'Olimpo, però siamo pelino, pelino sotto, grazie all'agilità, grazie al controllo di palla, grazie alle 4 stelle skill. E in più, a chiudere, non costa neanche tanto rispetto ad altri attaccanti con queste scaratteristiche, perché costa tra i 330 mila e il milione 3 su Xbox e tra i 570 e i 2 milioni su PlayStation. Se scenderà, prendetelo. Se c'è sul mercato e non scenderà, prendetelo comunque, se ne avete la possibilità, perché è un attaccante devastante. L'unico contro potrebbero essere i passaggi lunghi, ma sinceramente, chi se ne frega. Si becca il mio 10, giocatore straordinario, rompe le partite a solo, rompe il gioco. È praticamente immarcabile, è un giocatore fantastico, provatelo. Io ve lo consiglio al 100%, ringrazio Giuseppe che me l'ha prestato. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti.